Per te la squadra che sei Di ore, storia di un grande amore Bianco che abbraccia il nero Un coro che si alza davvero per te Portaci dove vuoi Siamo una curva in festa Come un abbraccio noi E ancora non ci basta Ogni pagina nuova Gianni è uno dei volontari Che in questi ultimi dieci giorni Ha lavorato giorno e notte quasi Per questo evento Quanti anni è che lei lavora Per organizzare questi eventi? Io ho solo questi ultimi due o tre anni Che ho aiutato la nuova amministrazione Abbiamo organizzato la mostra dell'avvocato Poi la visita della chiesa Poi cosa abbiamo ancora fatto? Abbiamo organizzato le navette Con la Saden Secondo me tanta gente così il primo anno Secondo me Negli altri anni c'era moltissima gente Ma come quest'anno secondo me I numeri ci diranno poi Se abbiamo ragione o no Ma secondo me quest'anno ce ne sono moltissimi Da dove arrivate? Da Cosenza Apposta per vedere la Juventus? Solo per la Juve Solo per la Juve Auto, treno? Pullman 15 giorni di viaggio abbiamo fatto Per venire qua Siete partiti ieri a che ora? Alle 6 Alle 6 Ed è la prima volta che venite? Quasi Forza Juve sempre Forza Juve sempre Sempre forza Juve E ne vale la pena? La spacchina Ovvio Come no? È la prima volta Ho sempre lavorato ad agosto E invece che segue la Juventus? Da 52 anni Partite in casa? Partite fuori? In casa e fuori Milano Bologna Era andato ai tempi A Verona Udine A che ora è arrivato stamattina? Alle 11 Siamo arrivati solo adesso Solo adesso Lei da dove arriva? Da Cugno Da Cugno Di dove è lei? Argentino Prima volta che vieni a Villarcarola Sì sì La prima volta Prima volta che vengo Un amico mi ha portato I nomi dei nuovi acquisti? I nuovi acquisti sono Diciamo Higuain Che è stato veramente Un nuovo acquisto stupendo Secondo me Speriamo di una campagna acquisti Oltre alla campagna acquisti Che sia un campionato Di quelli Come abbiamo fatto l'anno scorso Sicuramente Sarà sicuramente meglio In ogni caso E niente Forza di Ugo Un noto spronto per l'autografo? Assolutamente sì Solo che speriamo Perché effettivamente Sarà un po' dura Lei da dove arriva? Da Savone A chi è arrivato lei stamattina? Siamo arrivati per le 13 Partiti però alle 8 Da dove arriva? Veniamo dal nord-est Quindi Porto Gruaro Venezia 600 km Esatto Sveglia Sveglia alle? Sveglia alle 7 meno un quarto Preparativi Bandiera Sciarpa Striscione Panini E via E la prima volta che viene a Villar Perosa? Sì La prima volta In assoluto Però la Juve la segue sempre? Direi abbonato Tutte le partite In casa e fuori Ha un fascino particolare venire qui a Villar? È la storia che si respira È la storia che si respira In questo periodo dove le proprietà vanno e vengono Questo è simbolo di attaccamento alla famiglia Agnelli E per noi è un orgoglio In Italia siamo i soli Ad avere ancora un'unica proprietà da 90 e passa anni Quindi cosa griderà dagli spazi? Forza Juve Forza Agnelli Sempre La storia di un grande amore Bianco che abbraccia il nero Un colo che si alza davvero E solo per te E la Juve La storia di quel che sarò Quando fischia l'inizio Ed inizia quel sogno che sei E la storia di un grande amore Bianco che abbraccia il nero Un colo che si alza davvero Juve per sempre sarà Storia di un grande amore Bianco che abbraccia il nero Un colo che si alza davvero